...quasi di stampo rock, il concerto inizia, buon ascolto a riuscendo in The Ocean Road. Il concerto in The Ocean Road 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. , , , , a tutti. a tutti. , 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 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,, Grazie a tutti. 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 Yes, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.